e right on on the Ganga Radio e ce l'abbiamo davvero, ce l'abbiamo fatta sono riuscito a raggiungere al telefono uno degli hacker che ha fatto sparire il video di Despacito dal tubo, da Youtube ve ne parlavo prima, avete visto la notizia su tutti i giornali soprattutto i notiziari web c'è questo gruppo di hacker che è riuscito a far sparire dalla circolazione completamente il video di Despacito da Youtube quindi miliardi di visualizzazioni sparite in un solo clic, in un solo secondo ce l'hanno fatta questo gruppo di ragazzi, questo gruppo di hacker io sono veramente molto curioso, fin da quando ho letto, dal momento in cui ho letto la notizia veramente molto curioso di capire, di sapere come mai hanno scelto di far sparire Despacito al di là dei gusti musicali, forse è proprio quello, gusti musicali, non lo so ma sono veramente curioso di sapere come mai hanno scelto di far sparire proprio Despacito e quindi ho provato in tutti i modi a contattarli per chiederglielo, per togliermi questa curiosità e ce l'ho fatta, ce l'ho al telefono buongiorno e benvenuto a Ganga Radio a uno dei ragazzi che ha fatto sparire Despacito da Youtube buongiorno Giamba, buongiorno a te, è tutta Ganga Radio buongiorno, grazie oh, se c'è qualche altro emittente radio che vi dà fastidio, dimmelo, eh la facciamo sparire no, 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 ci mancherebbe, no, no noi siamo amici di tutti, non ci dà fastidio nessuno, ci mancherebbe senti, intanto grazie di aver accettato la mia telefonata questa mattina faremo molto veloce lo so quanto sei ricercato lo so che settimana difficile che hai avuto che ti stai nascondendo, quindi tranquillo faremo una cosa molto veloce figurati Giamba, nessun problema mi fa piacere essere al telefono con te comunque dimmelo subito, eh possiamo far sparire tutti, eh non c'è problemi no, 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 sì, vabbè ora te fai sparire tutti no, no, tranquillo davvero, noi siamo amici di tutti non abbiamo problemi con nessuno senti, io però ho una grossa curiosità cioè io voglio sapere come mai avete scelto di far sparire il video di Despacito da Youtube cioè come mai proprio Despacito? avete un problema con questo pezzo, non vi piace avete un problema con Fonsi? come mai, come mai? no, no, Giamba nessun problema con Fonsi ci mancherebbe il problema ce l'abbiamo con lei la ragazza del video di cui chiaramente non dirò il nome sì, no, vabbè tanto insomma la conoscono piuttosto bene tutti anche perché non si è neanche più di tanto nascosta anche in termini di vestizioni quindi non c'è problemi ma come mai avete problemi con lei? che è successo? il problema è che uno dei miei più cari amici ci ha provato con lei svariate volte l'ha proprio corteggiata a lungo, Giamba ah, quindi il problema sarebbe quello sarebbe una vendetta per le avance non corrisposte no, 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 no il problema non sono le avance non accettate il problema è che lei è mia sorella era arrivato il momento di interrompere questo scendio di persone che la spogliavano con gli occhi di contigo è mia sorella sì, però ecco questa cosa forse non avresti dovuto dirla io non lo so che cosa? che la spogliano con gli occhi? è la verità? no, no il fatto che è tua sorella forse non avresti dovuto dirlo insomma ti stai nascondendo da una settimana abbiamo camuffato la voce abbiamo fatto la telefonata super mega iper nascosta anche agli agenti segreti americani e adesso vai a dire che è tua sorella insomma lo dici in diretta su Ganga Radio non ci sono neanche tre persone che stamattina all'ascolto qualcuno c'è quindi adesso automaticamente tutti sanno chi sei no? hai ragione hai ragione eh lo so adesso adesso tocca far sparire Ganga Radio no, no, no lascia stare, lascia stare Ganga Radio è importante lasciala stare e soprattutto Ganga Radio è innocente perché hai fatto tutto da solo te lo volevi ricordare quindi mettiti una mano sul cuore e a un caso sparisci te che forse a questo punto ti conviene perché chissà quante persone ti staranno cercando per i danni quindi dammi letta sparisci che forse ti conviene eh pronto? pronto? signor hacker? pronto? è andato eh sì è andato comunque ragazzi devo dire la verità ognuno ha gli hacker che si merita è in diretta furbo come le volpi proprio mamma mia ride on on the Ganga Radio